La proposta della Giunta Totti sul trasporto pubblico locale ci fa arretrare di una decina d'anni. Immaginare che ancora i bacini d'utenza siano quelli delle province vuol dire ancora ritornare sulle municipalizzate. In Francia ci sono tre grandi aziende, in Italia ce ne saranno 150, in Liguria ci sono cinque su gomma più il ferro, il treno. È evidente che si è voluto dare manforte a posizioni arretrate, conservatrici come quella dell'ex presidente della provincia Vaccarezza. Noi avremmo voluto un bacino unico, integrazione ferro-gomma, integrazione dei biglietti, integrazione delle corse, non inutile sovrapposizione dei pullman tra una provincia e l'altra e tra questi e il treno. Il nuovo nodo della ferrovia genovese trasforma il trasporto del bacino dove ci sono più utenti, Celle e Sestri Levante. Ecco l'ottica della parcellizzazione, del piccolo e bello. Le aziende che oggi non hanno le risorse né per comprarsi gli automezzi nuovi né dare risposte effettive ai cittadini vuol dire guardare indietro. Siamo stupiti perché Totti ci aveva promesso invece che avrebbe trasformato nell'innovazione i servizi di questa regione.